Questo è il tempo di un impegno forte che riesca a ricucire in essi indispensabili tra politica, cittadini ed istituzioni. È il tempo di un risveglio della coscienza civile e democratica. Così è stato presentato il coordinamento delle associazioni e dei cittadini per Salerno. L'obiettivo è costruire tutti insieme una proposta comune per rilanciare la salernitanità e migliorare la qualità della città. L'altra città si propone un modello di sviluppo normale improntato all'equità sociale, alla legalità, alla trasparenza, al benessere della collettività. Durante la conferenza stampa di presentazione del coordinamento, di cui vediamo le immagini realizzate da Francesco De Angelis, con la presenza dei rappresentanti delle associazioni impegnate quotidianamente sul territorio, è stato ribadito l'impegno a ricostruire una città diversa con il lavoro comune. Salerno deve ritornare a discutere su temi che in questi anni non hanno trovato priorità. Bisogna mettere insieme associazioni e cittadini per costruire un nuovo futuro di questa città. E deve partire questo futuro proprio dalla partecipazione, dal sottolineare l'importanza di un confronto democratico su nuovi temi. Per fare questo lanciamo un appello ad associazioni e a cittadini a lavorare insieme su questi nuovi temi. Solidarietà, partecipazione, legalità, ambiente, turismo, lavoro, salute, commercio, sono tutte tematiche che hanno bisogno di trovare spazio e attenzione politica a Salerno.